Una serata all'insegna della musica rock per festeggiare il raggiungimento del traguardo dei 40 anni di vita e per festeggiare questa ricorrenza con familiari, amici e con cittadini. Il Collegio di Santo Nonfri a Nuoro, riqualificato per l'occasione dall'amministrazione comunale, ha ospitato sabato sera la manifestazione Primavera Rock, promossa dal Comitato Fedales 1977 di Nuoro. Una manifestazione iniziata nel pomeriggio con intrattenimenti per bambini, con gonfiabili trucchi a bimbi e conclusasi con un concerto di musica rock che ha visto contemporaneamente sul palco tre bande. Il Breaking Down di Olbia, formazione sulla scena musicale da 20 anni, che ha proposto alcuni dei suoi brani storici, oltre che la produzione più recente. Ad animare la serata ci ha pensato alla band nuorese dei Betesmako, che ha proposto alcuni dei suoi cavalli di battaglia, a cominciare dal brano Montecitorio, che riscuota sempre un grande successo tra il pubblico di fans e appansionanti. A chiudere la Kermess musicale nuorese è i Keys Station, che ha presentato un programma che ha come filo conduttore la produzione musicale dei Keys, gruppo fondato nel 1973 da Jim Simon e Paul Stati. In definitiva, una bella serata di musica che ha consentito a Fedales 1977 di organizzare un evento da ricordare e che ha avuto il merito, al di là di tutto, di consentire la restituzione alla città di uno spazio verde per troppo tempo dimenticato.